Salve a tutti ragazzi, sono Naroj e bentornati sul mio canale. Spero per voi che conosciate Attack on Titans perché oggi andremo a fare un beat utilizzando come sample una delle scene più belle di quest'anime. Questo spezzone che vi faccio sentire è quello che ho samplato e sono andato poi a modificare per creare la melodia del beat. Che spettacolo! Per prima cosa sono andato ad equalizzare il nostro sample, ho eliminato tutte le frequenze basse che ci davano fastidio e poi ho applicato un altro EQ in questo modo per dare più enfasi alla parte vocale. Dopodiché un po' di riverbero col Vintage Verb e compressione col Fruity Limiter. Dopo queste operazioni e dopo averlo shoppato e rimesso in ordine, la nostra melodia è questa qui. Secondo me perfetta per farci un beat drill. Come parte melodica c'è solo questo, quindi andiamo subito a vedere la batteria. Abbiamo questo kick su cui ho applicato il camel crusher per la distorsione. Poi abbiamo l'808, parte più importante del beat a mani basse. Comunque niente di complesso come potete vedere. Sull'808 ho semplicemente messo un Sausage Pattener e dopodiché sono andato a metterlo in sidechain col kick. Poi abbiamo gli i-hat. Dove sono andato a giocare con la Velocity per dare più bounce. Poi abbiamo lo snare e il countersnair. E infine questo triangolino. Poi per completare il tutto, classico blip. Gunshot sul drop. E un bel riser. Inoltre prima del drop ho fatto questo chop in quattro battute per dargli ancora più spinta. Bene ragazzi, anche per questo video è tutto. Spero di avervi dato degli spunti per i vostri beat. Se così fosse vi invito a mettere like e ad iscrivervi per non perdervi nessuno dei prossimi video. Ora vi lascio al risultato finale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao Grazie